Mentre si sviluppano i lavori di indagini sul caso di Sabrina Beccalli sembrano emergere delle novità che riguardano la morte della 39enne Cremasca. Stando ad alcune indiscrezioni che non rientrano per ora nei dati in possesso dei legali della famiglia della vittima, alcuni accertamenti escluderebbero tracce di droga nell'appartamento in cui Sabrina avrebbe perso la vita in via Portofranco nel quartiere Castelnuovo a Crema. Stando alle dichiarazioni dell'accusato per l'omicidio e la distruzione del corpo della donna, l'amico Alessandro Pasini, che dal carcere continua a negare di averla uccisa, Sabrina sarebbe morta in seguito a un overdose causata dall'uso di cocaina ed eroina mentre si trovavano insieme nell'appartamento della sua ex convivente. I sopralluoghi nell'appartamento tuttavia hanno messo sotto la lente dei RIS di Parma in particolare alcuni reperti sequestrati dalla casa e anche dall'auto di Sabrina, la panda poi incendiata in un campo dallo stesso Pasini. L'avvocato che segue la famiglia della vittima ha già avviato alcuni sopralluoghi con il generale Luciano Garofano, padre dei RIS, nei luoghi che hanno fatto da cornice alla morte di Sabrina dopo che la collaborazione è stata avviata nella giornata di sabato. L'avvocato Andronico, da noi contattato telefonicamente, non vuole commentare l'indiscrezione di cui non si hanno per ora conferme certe che possono influenzare l'indagine in corso. Intanto il puzzle dei fatti potrà essere arricchito da ulteriori tasselli dopo che a partire da domani si lavoreranno le operazioni peritali che dovranno fornire risultati e dati chiari in un massimo di 90 giorni, a meno che elementi evidenti non emergano anche prima e consentano di ridurre le tempistiche. Le analisi cominceranno domani a partire dal mattino quando i RIS saranno a Crema, poi ancora a Milano, per l'esame delle ossa trovate nell'auto. Al lavoro l'anatomopatologa Cristina Cattaneo che dovrà risalire al DNA dei resti ossei per poi procedere a un confronto con le tracce genetiche rinvenute nella casa della ex convivente di Pasini.